V... 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 Cap di San D'Om! Yes! L'Italia! L'Italia è salvato! Tre spettatori che incitano Israele! Il cross radente, il colpo di testa che viene cercato da Kehatt... Pallone che però è impreciso, termina a posto. Per provare un'attaccio per Israele, si fa vedere Kehatt, riceve lui appena entrato il fresco con il sinistro... Prova la confusione centrale, Pumbuano non rischia la parata... Poi... Ia lo savi! Lama! In questo caso, non ha tentato la presa, ha lasciato il pallone pericolosamente nel cuore dell'area di rigore, Davi... Iom tov, shell Kehatt... ... Il pallone pericolosamente nel pallone pericolosamente nel cuore dell'Italia... oh oh oi va voi oi va voi, z'è messo can lama oi va voi, z'è messo can no, oh oh i offi oi va voi, z'è messo can no, oh oh